Ponzi, buongiorno da me e dallo Squerkos Oggi ci troviamo di nuovo sull'isoletta volante, delle cose belle E dobbiamo fare delle cose, delle cose molto importanti Come potete vedere ho fatto un secchio di ferro e se guardiamo i nostri advancement Vediamo che ci rimangono un po' di alberelli prima di arrivare al nostro preferito E ci rimangono sti cosi qua, che per ora lasciamo stare Ci concentriamo un po' su questi Ieri sera mi sono messo a fare delle cose in più E me le sono preparate qui dentro, dentro questa chest qui Perché? Perché sì, sono cose semplici da fare Però ho detto, vabbè, voglio far vedere come si fanno, giusto così tanto per Eh, ve le faccio vedere Quindi qua abbiamo quest'albero, questa bottiglietta, clay, clay e ossa Le prendiamo E poi qua abbiamo un altro alberello Se noi prendiamo il primo alberello Seguitemi, bottiglietta, clay, clay e ossa Ci dà l'alberello di lapislazzuli E se prendiamo questo Ci mettiamo Che cos'era, che voleva questo qua Aspè Vediamo se mi riesco a ricordare senza niente Ferro, ferro Questa e questo qua Ci dà l'alberello di reddishton Reddishton Ora Perché non ve li faccio, vedete come li ho fatti Come sono arrivata da bella roba Perché è roba semplice comunque Si fanno facili Si fa uno col colore E l'altro con l'acqua E la resina di ferro Ci abbiamo un po' di lingotti di ferro Innanzitutto E oggi facciamo la roba seria La roba grossa La roba potente Intanto danza bonza Perché? Ho fatto un po' di becons Perché Conveniva farli E li ho fatti Qua c'è cresciuto l'albero di lapislazzuli Che è quello importante che a noi serve Ricordatevi Lapislazzuli Quello di lapislazzuli Perché ci permette di andare avanti Al led Piombo Ci porta al piombo Cari miei E il piombo Ci porterà poi a sua volta All'oro No, al silver pure Al silver Facciamo attenzione Perché c'è anche il silver In questo mod Occhio sempre Ando a lanciarci sotto Ok Possiamo fare un lapislazzulo Così 1, 2, 3, 4 Lapis ember Questa qua la dobbiamo Penso sempre Appicciare E ci darà i classici Due blocchi Che però A noi vi farò vedere cosa ci serve Dove sta il libro Noi dobbiamo fare La Led Il led Il led Se andiamo al led Dovrebbe essere questo qua Vediamo A che serve sta roba Vedeteci da loro Il led Il led però Lo facciamo Con una polvere Di Lavi slazzuli No? O con l'acqua rossa Fatemi tornare Al led originale Fatemi ci Eeeh Accaduta una cosa Fatemi tornare Alla polvere originale Ecco qua Si può fare O con la O con lontano O con la polvere blu Noi vediamo Come si fa Sta polvere blu Non si può fare Ma l'avislazzulo Con blocco di Lavi slazzuli E E voi sapete Che E ce ne vorranno ancora un pochettos Quindi direi che noi ci piantiamo altri due alberelli di lapis Raccogliamo questo di redstone intanto perché è sempre roba buona E vediamo se la danza da qua la arriva No, non arriva Troppa lontananza Però non vi preoccupate Non vi preoccupate perché ho dei simpaticissimi bonsai pot pronti, vuoti Nei quali possiamo mettere le nostre lapis E spero ci metta poco a cocerci pure Perché se no ci vorrà un sacco Ci vorrà un sacco di tempo a farlo Ma a noi Noi siamo pazienti Noi siamo persone che non si creano problemi No? Giusto? Giusto Dammi due bonsai pot Li mettiamo un attimo al volo proprio, eh Lo stanno qua Tic toc tac tic E ci mettiamo La fericcia Facciamo cresce E ci iniziamo a piantare i lapis Perché sono questi quelli che ci servono al redstone Stranamente non ci serve per andare avanti Ci servirà dopo Ma non ci serve per andare avanti Togliamo ste foglie Rompiamo sto albero Intanto mi si sta a rompere l'accetta Ma adesso la possiamo fare di ferro Ci abbiamo Tendenzialmente pure il ferro illimitato Visto che ci abbiamo la cosa Gli alberelli pure di ferro Perché a me non fa schifo Abbiamo messo contenti Sempre contenti di sta roba Voilà Vediamo Nove Piantamone un altro Taglia, 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 taglia Apri, apri, apri Quanto ci abbiamo? Tredici Facciamo un altro paio Un altro paio Perché ce ne servirà un bel po' Vi ricordo che ogni ember So due cose Prima di far un Prima di poter far Un blocco Perché a noi ci servirà il blocco Così ne facciamo nove Visto che non possiamo fare il lavislazzolo in uno E sono un po' limitate Ste cose Però Ci dobbiamo lavorare Ci dobbiamo lavorare E ce le dobbiamo tenere Così come so Quindi mo Ci mettiamo Fanno ste cose Continuiamo a rompere st'alberi Che poi continuerò a ripiantare Così vedete Siamo fatti una bella farm Di lapis Vedete Tic e tac Tic e toc Tia non c'ho più nemmeno lo spazio Per Per pialli Possiamo mettere questi Aspetta Mettiamo Tutto Eh Se La legna Addio Devo fare altri chests Vediamo un po' 25 e 30 Ok Ce ne escono 5 Così E ce ne avremmo 7 5 Ok 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 Perché 6 Ok Va bene Mi sta bene Mi sta bene Perché non so contare 6 Ok Sai che ci stiamo già un blocco Sai che ci stiamo già Noi le mettiamo tutte e tre No Metti qua Vediamo quanto ci vuole Non può essere sfatto E come lo faccio a sfa? Ci vuole un Melter Una fornace Come faccio ad ottenere Un lavislazzulo Lo mette qua No E Come si fa? Fa La roba di lavislazzulo Melter Nuclear craft Aspetta Aspetta Fermate qua Lapis Come Come te fa? Come te fa lavisla? Smelting Incentment chamber Crusher Smelter Grindstone La grindstone Con la grindstone Facciamo la grindstone Allora Eh? Si può fare molto semplicemente Questa qua Scrausa Si fa con Ci vuole della Cisled stone No Stone normale Cobblestone Dove è? Mettiamo una cuoccia un po' E vediamo Di fa Quella roba Che ci serve Don't do Sperando che funzioni Perché se non funziona Ragazzi Dovremmo aspettare ancora un po' Per fare il diamante Però dovrebbe funzionare Di solito le cose che funzionano a cavallo Funzionano pure a mano E ciò ci piace Mettiamo sta robaccia qua dentro Questo altro alberello qua Pure questi alberelli qua Le ghiande Tic tac Questa qua Ok Ce ne avevano 6 6 Ok vedete Già dice come si Si fanno le cose 5 6 Ok quindi ci serve la ghianda Io ho fatto tutte ste amber Convinto E invece mi sono perso in un bicchiere di agua Dai l'ultima Andammi qua su Opla Facciamola Tic tac Metti questo Voilà Ok la mettiamo Che ne so Qua Le ghiande Ok Tasto test Tic Vedete Dà la potenza E Uno Uno Ci Ci Bacca Come Come lo prendo Non è che devo fare Tutte le cose adesso Se ti rompo Ok grazie Grazie mille Grazie mille Tre lapis Tre lapis Ci danno la Pittura Così Ok Ora Torniamo di nuovo A sap Mazzettosa Si fa Si fa No Led 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 Perché Questa è per la silver Aspetta che dove fai Questa roba Ah quei lapis Giusto Con la polverella Dove sta la nostra Cosa qua Di amber Forse l'ho saltata Forse no Guardate quante cose si possono fare Con stile lapis Lazzoli Ah stanno pure le Alchemy Bags Però ci vuole il prestigio Ci vuole il prestigio Blue slime block Ma tu guarda Cioè sta pure il Frizzino elettrico Geniale 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 Comunque vediamo Aspetta Vediamo che ci serve Led Led it go Ci vuole Obtain led Led amber Ok questa si fa Con la Con la cosa Con la sbriciolamento Led amber Ecco qua M'ero perso un passaggio Sabbia Ferro E pietra Sabbia Due Ferro Due E pietra E la visla E la visla Azzulo Quindi mettiamo Ferro Sabbia Quattro pietre La visla Azzulo E abbiamo la led amber Voila 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 Ora Mo' inizia la roba seria Perché ci serve Il L'alberello E come potete vedere L'accento Si chiama Led zeppelin Led zeppelin Si fa con un dark Hawk sapling E io vi stupirò Vi stupirò Non avendocelo Pensavo Ad avercelo Ce l'ho da caccia Perché ce l'ho da caccia E ricordiamoci Come si fa Dark Hawk sapling Dark Hawk Ci vuole Coal E acqua Coal ce l'abbiamo No Lo rubiamo Lo rubiamo qua Ce l'ha dato? Non mi pare Dammelo qua E Voila Acquetta Mettiamoci un po' D'acquetta dolce Voila Dark Hawk sapling Lo iniziamo qua E qua ci mettiamo Led ember Ah dai E' veloce E' veloce E' veloce Mettiamo Sti lapislazuli Qua intanto E sto ferro Pure qua Mettiamo St'altra cosa Qua dentro Mamma mia Mantenersi In inventario Pulito Qua in mezzo E' credo La cosa più difficile Del mondo Più difficile Di far sta zitti Sti porcelli Che però Fanno compagnia Non sembrano Fanno compagnia Metta qua Led Led Dammi sto led Poi 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 Come vedremo Ci avremo Il Vediamo tipo Che fa Il Nostro gold Dov'è gold Ci vuole Dell'oro Sullo Sapling E ok Ma noi serve Da sapere Come si fa l'oro Intanto siamo spoilerati Un po' Il diamond sapling La gold Si fa con Due led Resin Due sabbie Un'altra volta Giallo E ferro Volendo La possiamo Già fare La possiamo Già fare Ci basta Prendere Altra Sabbia Due Giuste Giuste E E' Miseria Fatto un attimo De danza Qua è cresciuto Tutto subito Ci possiamo Già fare La nostra Gold Come vedete Ci abbiamo Tutta la roba Voi direte Ma ti manca Il fiore Ma vi faccio Vedio Ma vi faccio Vedio Il fiore Perché io So furbo Diecimila Non uno Non due Diecimila Ma vi faccio Vedere Dove sta Forse Sto coso Si è rotto Sta lavorando Un po' piano Eccolo L'ho freddato Vabbè Non ci interessa Più quella roba Prendiamo Il mio fiore Ehm Ho usato Il coso Che tira Un maiale E si è rotto Va bene Facciamo finta Che non sia Successo niente Gold ember Sabbia Ferro Led E basta Prendiamo quella di ferro Un due tre Quattro Due di queste Led Ce l'abbiamo Perfetto Pronti Un due tre Quattro Uno due Led it go Pronti Gold ember Wow Uh Gold Sapete che significa gold Che è il prossimo E' questo qua Però ci serve pure Il silver Probabilmente Serve pure il silver Vediamo se abbiamo Già un hog Sapling Sì Ma porca Miseriella Però qua Abbiamo ancora Del led Come ti posso Scolalo un attimo qua Per favore che qua ci abbiamo da fare delle cose un po' più serie La controlliamo Ok facciamo sto gold sapling E poi vi lascio andare tutti quanti Liberi di sognare Perché raga Gold Ma che siete pazzi Gold Abbiamo Cioè diciamo Sta pagina è finita ma Basta il coso di slime però vabbè Intanto potremmo vedere come si fa al silver Silver sapling Come significa che serve questo Ecco vedete serve un silver Un lapislazzo e due ori E uno di redstone Questa potrebbe essere un po' più complicata Led Petrified Tin Petrified E light grey Light grey si fa con questa pianta bianca Oppure col charcoal colorato Eh si colorato Polverizzato è il bon meal Vediamo se ce l'ho sto fiorellino bianco No non ce l'ho Non ce l'ho Dobbiamo polverizzare del carbone O aspettare che cresce Ehm Come si fa sto carbone polverizzato intanto Vediamo un po' R qua R qua No non mi da sta robaccia Su Light grey died bottle Light grey Wolverized coal Beh un crash Ah oppure pure sta cosa Ok 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 Volendo Potremmo fare anche quello Intanto piantiamo questo qua Ce l'ho un coal Uno di numero Però c'ho tante ghiande Tre Ce ne vogliono quattro E cinque di queste Facciamo un po' Facciamo un po' sta roba Voila voila E una qua Coal Lo polverizziamo al volo E tricche 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 E' un po' Manesco da fare sta cosa Però è giusta Ah ok si poteva prendere Ehm Bone Non ce l'abbiamo Bone Vabbè Ah no ce l'ho in mano Ce l'ho in mano Fai che sto a fa' Ci vale uno di questi Uno di questi Due di questi Light grey died Ok ora Fast amber Lead Tin E petrified Ce l'abbiamo Lead Tin ce l'abbiamo Sicuro E petrified Ce l'abbiamo Giacquave No Prendiamo le quattro E facciamo pure questa Attenzione Tic tacche Tic tacche Lead Tin E sta caccoletta Al centro Voila Silver Ci abbiamo anche il silver Ragazzi Quindi nel prossimo episodio E' diamante Cari miei E' diamante Ma io direi che per questo episodio Vi lascia andare a casa Molto Con pace Magari vediamo l'albero d'oro Cresciuto Che ne dite Eccolo qua Bellissimo Bello l'albero d'oro Molto grazioso Bello Vedibile Va bene Allora ci vediamo nel prossimo episodio Mi raccomando Ciao Ciao